Ci troviamo sull'isola di San Servolo a Venezia in occasione di un incontro incentrato sul tumore della prostata e abbiamo il piacere di parlare con il professor Gaetano Crepaldi, professore emerito di medicina interna all'Università di Padova e responsabile scientifico della sezione invecchiamento dell'Istituto di Neuroscienze. Allora professore, lei qui ha tenuto un'interessante relazione sulla correlazione tra alimentazione e tumori, ma esiste davvero questa correlazione? Sicuramente noi possiamo dire che esiste una percentuale altissima di neoplasie legata all'alimentazione. Le modalità di intervento sull'alimentazione sono molto complesse perché non si possono fare studi di intervento, perché lei capisce che non si può obbligare una persona a mangiare un solo alimento per un certo periodo di tempo. Quindi sono tutti studi osservazionari e si è cercato di vedere, proprio perché chi abita nel bacino del Mediterraneo e chi si nutrisce utilizzando gli alimenti tipici della dieta mediterranea, si è visto che questa porta a una riduzione della mortalità in generale, della mortalità per cardiovascolopatie e si è visto che porta anche a una riduzione della mortalità per tumore. Noi abbiamo esaminato una serie di studi, in particolare aumentando l'aderenza alla dieta mediterranea e vedendo se questo porta a una riduzione del rischio tumore. Cos'è emerso da questi studi? Da questi studi è emerso che utilizzando una maggiore aderenza alla dieta mediterranea si è riuscita ad ottenere una riduzione del rischio di neoplasia intorno al 10%, 8-9%. Ecco, questo dato per quanto riguarda il tumore della prostata è anche significativo, sia pure però a una percentuale molto inferiore. Però quello che è importante è che noi abbiamo dimostrato attraverso studi osservazionali che la possibilità di ridurre il rischio tumore si associa alla possibilità di aumentare l'aderenza alla dieta mediterranea. Ecco professore, ci sono degli alimenti che dovrebbero essere evitati o altri che apporterebbero dei benefici per il tumore della prostata. Quali sono le raccomandazioni e i consigli? Ma il discorso è molto delicato. L'esame dei singoli alimenti non ha dimostrato nessun dato significativo salvo l'aumento del rapporto tra acidi monoinsaturi nei grassi e grassi saturi. Quindi è la dieta nel suo complesso che induce una riduzione del rischio. La possibilità che qualche alimento possa contribuire è molto problematica. Non esistono studi per alimenti singoli e la possibilità di individuare una riduzione significativa con questo o quell'alimento non è stata evidenziata dagli studi fatti a questo proposito. Quindi è la dieta nel suo complesso, anche se alcuni alimenti, per esempio l'uso del selenio può essere negativo, l'uso di alcune vitamine, l'utilizzo di qualche alimento, ma è la dieta complessiva che dà la riduzione del rischio, non il singolo alimento.